Benvenuti a questa nuova lezione su Fichte. Questa volta tratteremo in maniera più approfondita la filosofia fichtiana e cominciamo a farlo ponendo subito delle differenze, dei limiti o comunque una linea di demarcazione tra l'idealismo fichtiano e la filosofia di Kant, che rimane un costante punto di riferimento, in genere polemico, da parte di tutti gli idearisti e da parte di tutta la filosofia romantica. Ora, mentre Kant aveva formulato una filosofia del finito, della finitezza, della determinatezza, Kant parlava di una conoscenza determinata, vincolata, Fichte invece all'esatto contrario intende liberare l'uomo, intende liberare le possibilità umane e tende a costruire, a realizzare, a mandare ad effetto una filosofia dell'infinito, cioè a dire la filosofia relativa ad un'assenza di limiti, di determinatezza, di ostacoli alla libera realizzazione dell'uomo. Anzi, secondo Fichte, l'uomo coincide con l'infinito. L'uomo è l'infinito stesso. Ora, questa filosofia dell'infinito, in Fichte assume le movenze di una filosofia dell'io, dell'infinito, dell'assoluto. Un io, un infinito, un assoluto che coincidono con l'essere umano, o perlomeno con la storia dell'uomo, con l'umanità in quanto tale. Secondo Fichte, l'io è l'unico principio della conoscenza. È un principio tanto formale quanto materiale della conoscenza, in quanto l'io costituisce la forma della conoscenza, ma l'io costituisce anche la materia della conoscenza, per cui la conoscenza è una posizione e posta da parte dell'io. Allora, se l'io è tanto causa formale quanto causa materiale della conoscenza, l'io è al tempo stesso tanto finito quanto infinito. Cioè a dire, siccome l'io pone tutto, pone gli oggetti della conoscenza, cioè a dire, quelle negatività, quei negativi che sarebbero diversi dall'io e che quindi si costituirebbero quali opposti all'io, allora l'io è infinito. Cioè a dire, è una libera attività spontanea, è una libera attività creatrice, che coincide con l'umanità. L'io è dunque libertà. Ora, la principale opera di Fichte è la dottrina della scienza. L'obiettivo di Fichte consiste nell'individuare il fundamentum, il fondamento della conoscenza. Ma è un'indagine, gnosiologicamente, assai distante da Immanuel Kant. Fichte ci dice che, se l'io conosce nel momento in cui un oggetto diviene un qualcosa per la coscienza, un qualcosa per l'io che conosce, allora la coscienza è tale se l'io ha coscienza di sé. Pertanto, mentre l'io è il fondamento dell'essere, della realtà, perché la realtà è posta dall'io, l'autocoscienza è il fondamento della coscienza. Ora, la dottrina della scienza individua nell'io il principio unico, unico e solo unico, sovrano, della conoscenza. Dall'io dunque deriva, consegue, l'intero mondo del sapere, della conoscenza, della sapienza. Ora, dunque, Fichte fa dedurre, fa seguire da questo principio, dall'io, l'intera realtà. Noi abbiamo, cioè, un io che pone l'essere o realtà o non io, ma questa realtà viene conosciuta, cioè ricade all'interno della coscienza, all'interno dell'io è un qualcosa, una realtà, un essere per l'io, ed essendo per l'io è un essere, una realtà, sono degli oggetti, delle negatività, dentro l'io stesso. Per cui è come se la conoscenza non fosse altro che un'altra maniera, una modalità diversa di manifestazione o di realizzazione dell'io stesso. Per cui la conoscenza sarebbe un'autocoscienza dell'io, un movimento di autocoscienza dell'io a se stesso, o della coscienza a se stessa. Pertanto, questa autocoscienza è posta da Fichte al fondamento dell'io stesso. Pertanto, se è l'io che giudica di ogni realtà, dal momento che ogni realtà viene posta dall'io, allora le stesse verità della logica, come il principio di identità, come il principio di non contraddizione, sono secondarie rispetto allo stesso io che ne giudica, che giudica in merito alla loro verità. Pertanto, la dottrina della scienza formula tre principi, o tre verità dell'io. Abbiamo il primo principio, che suona dello suo modo così, l'io pone l'io. Abbiamo poi il secondo principio, che suona più o meno nel modo che segue, l'io pone il non-io. Ed infine, dulcis in fundo, abbiamo il terzo principio, che suona circa così. L'io oppone nell'io all'io divisibile un non-io divisibile. In breve, questi tre principi realizzano un divenire un movimento dialettico, costituiscono una vera e propria dialettica dell'io. Ora, il primo principio, il significato del primo principio, il significato del primo principio è il seguente. L'io si identifica con la propria attività creatrice ed infinita, senza limiti, assolutamente libera. L'io è libertà, libertà di creare, libertà di porre di auto porsi. Invece, il significato del secondo principio è il seguente. L'io non pone soltanto se stesso, l'io pone l'io, ma oppone a se stesso, oppone all'io stesso qualcosa che, proprio in quanto gli è opposto, è un non-io, cioè a dire un mondo, una realtà, l'essere, ciò che si staglia di fronte all'io. solo che questa realtà è dentro, è interna all'io stesso, poiché è posta dall'io. Quindi non è qualcosa di diverso dall'io, ma è l'io stesso che la pone, che lo pone l'essere, il mondo, l'oggetto, per autoconoscersi, cioè per migliorare la consapevolezza che l'io, la coscienza, il soggetto hanno di se stessi. Infine, il significato del terzo principio è il seguente. L'io produce, genera, realizza la situazione concreta del mondo, vale a dire la presenza di una molteplicità di io finiti, i quali hanno di fronte a sé una pluralità di oggetti a loro volta finiti, ad un io divisibile, un onio divisibile, ad una pluralità di soggetti umani, io finiti, una pluralità di oggetti, non io, a loro volta finiti. Pertanto, questi tre principi dell'io espressi nella dottrina della scienza, dicono, indicano, realizzano, quanto segue. Da un lato abbiamo un io infinito che bisogna intender come un'attività assolutamente libera e creatrice. Contemporaneamente, però, esiste un io finito il quale, essendo limitato dal non io, si configura nei termini di un soggetto empirico, vale a dire, gli io divisibili, ovvero gli esseri umani in carne ed ossa dotati di un nome, di un cognome, di una storia personale empirica circostritta, delimitata. Esiste ancora una realtà, ovvero l'oggetto, che si oppone all'io finito, quindi gli non io divisibili, che si oppongono all'io divisibili, agli io divisibili, ma che è ricompreso nell'io infinito, dal quale, cioè, è posto. L'io pone nell'io, ad un io divisibile, un non io divisibile. È tutto un gioco dialettico dell'io stesso. In realtà esiste soltanto l'io e l'io finge di dialettizzarsi in degli opposti, nella pluralità del mondo. Allora, questi tre principi non vanno intesi in senso cronologico, in senso temporale, come se ci fosse un prima, un durante e un dopo, ma solo come un momento dialettico della vita dell'io, ovvero per l'io e nell'io, dentro l'io, dentro la coscienza. L'io dunque è finito, perché è limitato dal non io, ma è anche infinito, poiché il non io è posto comunque dall'io. La meta di questo divenire dialettico, di questo movimento dialettico per opposizioni, è l'io. Pertanto, l'universo ha una propria meta, una propria finalità, un proprio scopo, va a dire spiritualizzarsi. L'io ha bisogno di mettersi alla prova opponendosi dialetticamente ad uno negativo, al non io, perché l'io vive soltanto nella dimensione della contesa, della tensione, della contraddizione, dello sforzo, dello streben, ovvero senza contesa, non ci sarebbe vita. L'io si realizza, cioè nel conatus, nello sforzo, nel continuo porre ostacoli e superarli, nel proiettarsi sempre oltre, nell'individuare un nemico e superarlo, vincerlo, batterlo. Se l'io riuscisse a superare tutti gli ostacoli, cesserebbe di esistere. La storia dunque, la storia dell'io, storia dell'umanità, è un processo senza fine, senza termine, di posizione continua, di ostacoli e di correlativo superamento. Ora l'io pone l'io e il non-io attraverso l'immaginazione produttiva, vale a dire, l'atto con cui il soggetto crea l'oggetto. Un processo però che l'io non realizza in maniera cosciente, in maniera consapevole, ma in maniera spontanea, ovvero in maniera inconscia. In conclusione dunque, l'io pone, l'io e il non-io, pone cioè se stesso e la sua negazione. Abbiamo un soggetto che pone la conoscenza, vale a dire l'oggetto per l'io, l'oggetto che cade all'interno della coscienza dell'io, ma è un io che pone dunque anche il non-io, cioè l'oggetto della conoscenza, ciò che diviene un qualcosa per noi e dunque viene conosciuto. L'oggetto dunque è opera del soggetto e ritorniamo così idealmente al soggetto che è fondamento dell'essere laddove l'autocoscienza è il fondamento del soggetto o della coscienza stessa. Con questo ci congediamo con la speranza di avervi fatto cosa gradita. Firmato Giovane Prof. Firmato Conscienza di